Buongiorno a tutti, sono Luca Favalli di Red Scale e oggi vorrei presentarvi il nostro gioco dei Wicked Hungerdorf. Questo gioco è stato prodotto oltre che dal sottoscritto anche dal capogruppo Alessandro Tironi e da Antonio Natilla. Assieme abbiamo lavorato al design e alla programmazione di questo gioco con la partecipazione anche di Fabio Taurisano per la produzione degli sprite e di Luigi Suardi al sound design. Come da constraint definiti The Wicked Hungerdorf è un gioco tattico a turni in cui due giocatori si sfidano online per vincere una partita della durata media di 20-30 minuti. Se dovessimo descriverlo in poche parole sarebbe come un Final Fantasy Tactics online in un'ambientazione simile a Bloodborne ma basato su degli obiettivi come può avvenire in una competizione sportiva come il rugby oppure rimanendo in ambito videoludico in un più recente Pyre. Il gioco consiste quindi in questi due giocatori che formano una squadra di abitanti pazzi all'interno di un villaggio il cui scopo è quello di rapire un bambino e di portarlo alla strega malvagia affinché compia un macabro rituale di sacrificio in favore di una divinità. Però ora lascerei parlare per me il trailer di The Wicked Hungerdorf. inizia la la inizia Pau, help me. Possiamo quindi vedere che questo gioco è dominato dai temi della follia e della superstizione che sono sicuramente un fattore unico se non altro per questo genere inoltre questo gioco si distingue dai competitor in quanto il combattimento di per sé non è enfatizzato anzi tutto gira attorno alla strategia e al controllo della mappa i personaggi di questo gioco sono più simili forse a dei pezzi degli scacchi che non dei personaggi di uno strategico tradizionale inoltre non ci sono presenti statistiche né lanci dei dadi quindi tutto dipenderà sulla nostra strategia e nulla sulla casualità ed è proprio questo che determina uno dei fattori di rigiocabilità principali infatti il giocatore è spinto a trovare la combinazione di personaggi migliore con le migliori sinergie al fine di vincere la partita e di sconfiggere il suo avversario inoltre abbiamo l'obiettivo di attirare sia i giocatori più hardcore inserendo una leaderboard che premierà solo i migliori ma anche al tempo stesso quelli che forse sono solo interessati alla storia e quindi vorranno vedere un finale per ogni singolo personaggio in gioco inoltre dopo il rilascio il roster dei personaggi sarà espanso al fine di mantenere i giocatori più affezionati stretti al titolo e magari anche attirarne di nuovi ad oggi è disponibile un prototipo giocabile ma l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a una open beta release entro febbraio 2019 e con un investimento aggiuntivo di 90.000 euro aggiungere 9 mesi di sviluppo e arrivare a una full release su pc successivamente si potrebbe anche valutare in caso di successo una release anche su altre piattaforme principalmente il gioco ci sembra particolarmente adatto a mobile e switch come abbiamo visto The Wicked Ungerdorf secondo noi si può inserire all'interno di una nicchia interessante del mercato infatti è unicamente multiplayer a differenza di corrispondenti del genere si rivolge a un pubblico di mid core to hardcore players e ha un'estetica macabra ma cartoon quindi speriamo di poter attirare sia gli aficionados del genere che magari anche qualche nuovo interessato e niente qui potete vedere le caratteristiche principali e se volete fare qualsiasi domanda io sono a disposizione altrimenti qua qui vedete i contatti del nostro gruppo grazie grazie ragazzi grazie 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 Grazie.